Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Questi impegnati in una giornata intensa, ricca di idee e di spunti di riflessione. Una giornata dedica al confronto e alla condivisione di idee che saranno l'oggetto di progetti e di impegni futuri. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e al successo di questa giornata. E in modo particolare tutti i relatori che hanno affrontato con eccellenza il tema del convegno. Ringrazio inoltre le istituzioni che hanno sostenuto e accompagnato questo progetto sin dall'inizio. Le autorità di polizia e carabinieri che hanno sorvegliato alla nostra sicurezza. La nostra immensa gratitudine va alle centinaia di volontari che con il loro impegno e la loro dedizione hanno reso possibile e formidabile questo evento. A loro va tutta la nostra stima e il nostro ringraziamento. Ringrazio infine tutti e tutti voi che avete voluto condividere con noi questa giornata, sopportando lunghi viaggi e grandi fatiche. Chi Dio, l'Altissimo e il Generoso, renda merito a tutti voi e faccia sì che i semi che abbiamo piantato in questa giornata diano frutti di pace e di giustizia per tutta la nostra società italiana. A lui, l'Altissimo, rivolgiamo queste nostre invocazioni concluzive, in scha'Allah. E' l'Altissimo, rivolgiamo queste nostre invocazioni concluzive, in scha'Allah. E' l'Altissimo, rivolgiamo queste nostre invocazioni concluzive, in scha'Allah.